Una grande esplosione è stata avvertita distintamente nella capitale della Turchia, che vi ricordo è Ankara. Come riportano alcuni siti turchi, hanno spiegato proprio che le cause dello scoppio non sarebbero molto conosciute, alcune immagini tuttavia mostrerebbero un'altra colonna di fumo di colore nero tra i palazzi della città, il, come dire, centro della città, la capitale Ankara. 18 sarebbero i morti accettati, diversi i feriti per colpa della forte esplosione che ha colpito un complesso di residenze militari nel quartiere centrale di Kizidai. Come riferisce un emittente locale, la CNN Turk, una colonna di fumo nero si è alzata sulla città dalla via Eskeseir, ignota le cause dell'esplosione, ma l'agenzia d'organ avrebbe sostenuto che si sia trattato di un attacco contro una navetta che trasportava ai militari. Il presidente della Turchia, Ahmed Davutoglu, Cidalda o Quilidiana ha fatto sapere che le autorità stanno effettuando tutte le verifiche del caso per accettare gli eventuali responsabili. Tuttavia il Consiglio Supremo della radio e TV avrebbe imposto ai media del Paese un divido temporaneo sulla copertura dell'attentato. Vi ringrazio per l'ascurto, il video termina qua. Iscrivetevi i commenti e di Kizidai.